Il programma che prevede investimenti per 9 miliardi di euro e che interessa la realizzazione e il completamento di opere infrastrutturali strategiche di natura stradale, autostradale, ferroviaria, idrica, portuale e aeroportuale è stato illustrato questa mattina all'Aquila dal presidente della regione Gianni Chiodi. All'incontro hanno partecipato gli assessori Morra, i trasporti e di Paolo i lavori pubblici, oltre a rappresentanti dell'ANAS, delle ferrovie dello Stato e delle autonomie locali. Il progetto è inserito nell'intesa generale quadro sottoscritto tra il governo e la regione Abruzzo, relativa alle infrastrutture strategiche. Il documento riconosce all'Abruzzo un ruolo di snodo strategico tra le direttrici Nord-Sud e in particolare quello di Ponte con i Balcani. In proposito Gianni Chiodi ha detto che occorre una strategia di lungo periodo che preveda la realizzazione di grosse opere infrastrutturali che dovranno integrarsi con i piani territoriali, il nuovo piano strategico regionale, il programma regionale di sviluppo e i piani territoriali di coordinamento provinciali. È una strategia di medio e breve periodo relativa alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e alla mobilità interna di competenza regionale. Perché le risorse previste nel piano possono essere rese disponibili sarà necessario elevare al livello di cantiereabilità i progetti delle opere che si intendono realizzare coinvolgendo tutti i soggetti attuativi in periodici tavoli di monitoraggio. Nel corso della riunione sono state illustrate nel dettaglio tutte le opere contenute nell'intesa relativa allo sviluppo della rete infrastrutturale. Tra queste il completamento della statale 80 Teramo Mare, il completamento della pedemontana Abruzzo Marche, collegamento viario tra la statale 16 e il porto di Oltona, lavori di adeguamento in variante alla statale 16 da Montesilvano a Silvi Marina Nord, il miglioramento della tratta ferroviaria Pescara-Roma con la realizzazione di varianti di tracciato che permetteranno di ridurre ad appena due ore il trasporto ferroviario tra le due città, il completamento del porto regionale di Oltona, il prolungamento della pista dell'aeroposto di Pescara è relativa a messa a norma.